Buongiorno a tutti, questo è l'esordio di un angolo di stile artigiano di quest'anno a Piazza dei Ferrari che prende spunto da una rubrica che teniamo due volte alla settimana con Fartigianato Liguria che è un osservatorio parlamentare, regionale, comunale, sulle curiosità e anche sui provvedimenti e quindi trasferiamo questa rubrica dal web e dai social in piazza. La trasferiamo innanzitutto con il nostro padrone di casa che è il segretario di Fartigianato Liguria, Luca Costi che ci porta il saluto e poi abbiamo il primo ospite di queste tre giorni dove si alterneranno figure istituzionali, persone con ruoli di rilievo, anche artigiani ovviamente, persone che ci racconteranno un po' cosa fanno, cosa pensano di fare, aneddoti, curiosità e quindi il primo ospite è Roberto Cassinelli deputato appena rieletto di Forza Italia e con cui parleremo anche della situazione politica attuale. Visto che Roma non ha fatto moltissimo, ma non per colpa sua perché c'era poco da fare, vediamo di farlo lavorare a Genova. Grazie Massimiliano, lo scopo di questa rubrica che appunto si trasferisce dal web al salotto, un salotto arredato con gli oggetti delle nostre eccellenze, il marchio Artigiani Liguria, siamo seduti su delle bellissime sedie chiavarine ad esempio, è un salotto che vuole proprio portare in piazza coloro che sono i nostri decisori della vita politica quindi nazionale, in questo caso con Roberto Cassinelli che è un amico di stile artigiano, un aficionados, ha seguito tutte le nostre edizioni da quando è stato eletto, si è anche cimentato in lavori artigiani anche per testimoniare con un giorno d'artigiano e che quindi cerchiamo anche di far capire, anche in modo divertente come hai detto, anche con curiosità, quindi non con tematiche pesanti e paludate, esatto, quello che sono i temi della politica. Quindi mi fa piacere che si inauguri questo salotto che si chiama Accettate il Consiglio e speriamo veramente che si possano trovare tanti spunti e accettare i nostri consigli. Grazie Luca e fra l'altro direi che è cosa buona e giusta iniziare con Roberto Cassinelli perché uno dei grandi meriti di Confartigianato Liguria, secondo me, è aver istituito i rating cioè le votazioni su ciò che fanno i nostri eletti, in particolare parlamentari e consiglieri regionali perché hanno anche un'attività legislativa oltre che di controllo, cosa fanno a favore delle piccole imprese, in particolare delle imprese artigiane che sono il tema, quindi voi monitorate anno dopo anno ciò che avviene e il lavoro dei deputati, dei senatori e dei consiglieri regionali per vedere se vale la legge, prende i voti e scappa oppure se invece prende i voti e resta. Nel caso di Roberto Cassinelli, i voti sono espressi con gli smile e con questo tipo di grafica, lui ha sempre il massimo di smile, sembra uno di quei post su Instagram che mandano i nostri ragazzi dove le faccine superano lettere e parole, quindi complimenti a Roberto proprio perché si è sempre dato da fare addirittura, e questo ci tengo a dirlo, nell'ultima legislatura al Senato, pur essendo subentrato lui a nemmeno un anno dalla fine, è riuscito a fare più di tanti eletti cinque anni prima, quindi tanto di cappello e anche con interrogazioni e proprio la richiesta di venire incontro al mondo del lavoro e in particolare Ligure e Genovese. Quindi appunto non posso chiederle cosa ha fatto in questa legislatura per gli artigiani perché di fatto la legislatura non è ancora iniziata, però appunto certamente anche a livello di eventuali proposte di legge o di idee, certamente un programma ce l'ha, ce l'ha anche illustrato in campagna elettorale, chiediamo un piccolo sunto. Grazie, grazie a Luca Costi, io accolgo sempre con grande piacere l'invito della Confartigianato, soprattutto in queste occasioni quando scende in piazza, innanzitutto perché è un'occasione per conoscere artigiani magari sparsi sul territorio, in provincia, che in qualche caso difficilmente uno avrebbe modo di conoscere e di raggiungere. Eppure perché, lo confesso, in questa occasione c'è anche la possibilità di fare tanti assaggi, abbiamo appena assaggiato canestrelli e baci di Dama di Montebruno, pubblicizzo solo questo articolo, ma tanti altri sono veramente qualitativamente eccellenti ed ovviamente è un grande piacere. La risposta a Massimiliano è tutto sommato abbastanza facile, nel senso che il mio impegno che non comincia oggi ma è da sempre, è un impegno essendo un liberale evidentemente diretto a tutelare, favorire, a sostenere quello che è la piccola e la media impresa, in particolare l'impresa artigiana. Io credo nella libera concorrenza, credo nel libero mercato e credo che il tessuto economico del nostro Paese, al di là di qualche grande azienda che soprattutto in passato ha socializzato le perdite e invece ha trattenuto gli utili, queste imprese siano il tessuto economico fondamentale nel nostro Paese. I dati ce lo confermo, in Ligure ci sono 45.000 imprese artigiane, di queste addirittura 15.000, quindi un numero elevatissimo, è scritto da Confartigianato e queste danno lavoro a tante famiglie e occupano veramente un numero di addetti molto significativo. Io credo che l'impegno in questa legislatura dovrebbe essere quello sostanzialmente di puntare su due temi, il primo quello della burocrazia, oggi in Italia chi lavora, questo non vale solo per gli artigiani purtroppo ma vale un po' per tutti i libri professionisti, vale per tante realtà, è veramente impegnativo, veramente difficilissimo e occupa una quantità di tempo sproporzionata rispetto a quello che dovrebbe essere e rispetto poi al tempo che queste persone riescono a dedicare al loro lavoro. Allora cosa chiediamo? Chiediamo che si semplificano queste cose, che vengano ridotti gli addempimenti, che si possono aumentare le autogentificazioni, che da parte degli enti pubblici ci siano degli interlocutori che hanno l'obiettivo di facilitare e non di complicare la vita a chi lavora. Il secondo tema è quello fiscale, è un tema su cui in campagna elettorale noi ci siamo battuti a lungo, anche qua io credo che l'oppressione fiscale in Italia abbia raggiunto dei livelli veramente insopportabili, le tasse vanno pagate, perché ovviamente sappiamo che finanziano il funzionamento dell'apparto pubblico, dello Stato, di servizi importanti, quali la sanità, i trasporti, ma vanno pagati in una misura equa. Non si può pensare che chi lavora in proprio praticamente fino al 20 di agosto lavori per pagare le tasse e solo dopo possa lavorare per sé la propria famiglia. Tanto più quando siamo in presenza di artigiani che fanno esclusivamente fondamento sul loro lavoro personale, sulla loro salute, che se ahimè hanno un problema non vengono aiutati sostanzialmente a nessuno, non hanno case integrazioni, non hanno paracaduti particolari. Per cui credo che vada da parte della politica data grande attenzione a questo mondo, che lo ribadisco, secondo me costituisce la parte sana dell'economia del nostro Paese che credo potranno dare, se sostenuti, se aiutati come si deve, potranno dare grandi soddisfazioni e soprattutto anche mantenere un livello qualitativo sul fronte dei prodotti, sul fronte dei servizi resi che credo pochi altri possano dare. La prima domanda era certa perché appunto si parlava di programmi, di quelle del onorevole adesso Cassinelli, le conosciamo. La seconda domanda la facciamo più difficile perché ci vorrebbe la sfera di cristallo. Osservando appunto, sia pure da osservatore, noi abbiamo fatto il conto, siete arrivati più o meno alla decima seduta a Montecitorio, decima undicesima, ma tutte sedute o di adempimenti formali o di comunicazione al presidente, poca ciccia ovviamente. E detto a me e all'onorevole Cassinelli, poca ciccia è una cosa che dispiace. Cosa prevede che succeda da qui a lunedì che pare essere il giorno dell'armageddon? Credo che fare una previsione e essere smentiti sia un tutt'uno in questa circostanza. L'immaginazione mi porta a pensare che lunedì i due esponenti della Lega e dei Cinque Stelle, Salvini e Di Maio saliranno al colle, penso con un nome, perché dopo aver anticipato in Pompamagna l'accordo sul programma, l'avere raggiunto le intesi su tutti e di essere pronti a governare e dicono loro ovviamente a cambiare questo paese, credo che sarebbe veramente un insuccesso clamoroso sia per la Lega e per i Cinque Stelle, fallire questa operazione e non raggiungere un'intesa sul presidente del Consiglio. Credo che questo alla fine sarà per loro una scelta obbligata. Poi cosa riuscirà concretamente a fare questo governo e quanto durerà credo che sia ancora più difficile immaginarlo. La parte nostra, la parte di Forza Italia, come abbiamo detto, dopo che il presidente Berlusconi con un gesto di responsabilità istituzionale ha lasciato libera la Lega di percorrere questa strada, credo che la valutazione verrà data sulla base di due elementi. Il primo, la scelta del presidente del Consiglio, quindi un'eventuale gradazione, voto contrario al governo o astensione, verrà certamente misurata a seconda del personaggio che verrà posto a capo del governo. E la seconda, noi valuteremo, come abbiamo sempre fatto e non solo in questa occasione ma anche in passato, valuteremo i provvedimenti del governo di volta in volta. Se sono provvedimenti che a nostro giudizio sono all'interesse del Paese non ci sarà per noi nessun motivo per far mancare il nostro sostegno. Se invece non li condivideremo ovviamente svolgeremo il ruolo che ci compete che è quello di un'opposizione critica al governo. L'ultima cosa, mi ha già anticipato la domanda su come avrebbe votato lei, cioè se con l'astensione benivola questo quasi ossimoro, cognato peraltro da Giovanni Totti che è qua di fronte a noi come padrone di casa a Piazza dei Ferrari o un voto contrario come invece pare più profilarsi negli ultimi giorni dagli incontri europei di Berlusconi. Quindi su quello abbiamo detto dipende dal nome e dal programma. Invece per quanto ipotizziamo che il governo si faccia e ipotizziamo che questo scambio di amorosi sensi, questo attuale innamoramento sfoci in amore e matrimonio. Questo per lei rischia di far morire il centrodestra così come l'abbiamo conosciuto finora perché nel primo comunicato, nella prima nota di Silvio Berlusconi si diceva che le giunte locali non si toccano, le alleanze nelle regioni del nord restano salde e tutto, però era chiaramente la fase preliminare. Il rischio c'è quello che bigami non si possa essere? No, non credo che questo potrà mettere in crisi né le giunte e non è in questo momento assolutamente intenzione di Forza Italia o di altre forze che compongono il centrodestra di creare problemi alle giunte regionali, alle giunte comunali dove amministriamo insieme alla Lega. Ovviamente da cittadino l'ospicio è che il governo possa fare bene, devo dire che così l'inizio non è dei più brillanti e ovviamente lo dico con qualche sarcasmo perché le informazioni che sono trapelate sulla bozza di programma credo che presentino molti limiti e forse ci abbiano anche ridicolizzato di fronte ai partner europei non solo. Ma al di là di questo io credo che la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia abbiano interesse assolutamente a mantenere unito il centrodestra e a considerare comunque questa fase è una fase del governo Lega 5 Stelle, è una fase transitoria per poi riproporsi alla prima occasione sia a livello amministrativo che a livello politico uniti perché sono la coalizione che più di ogni altra può certamente raggiungere la maggioranza di questo paese e può a mio giudizio dare le risposte che il paese attende. Un'ultimissima cosa personale, qualora invece il governo non si facesse e si andasse a votare a questo punto non a luglio come era stato ipotizzato in un primo tempo anche perché la si vede difficile ma a ottobre ipotizziamo o a novembre lei è già pronto per una nuova campagna elettorale? Io campagna elettorale ne ho fatte tante quindi direi che ormai ho acquisito una certa esperienza e un certo ritmo io ovviamente metterò come ho fatto in passato la mia persona la mia disponibilità al servizio del partito poi il partito valuterà ecco se è opportuno ripresentarmi se posso essere considerato utile per la campagna elettorale e utile proprio per lo svolgimento di un mandato se così non dovesse essere se venissero fatte scelte diverse devo dire che ho la fortuna che non vivo di politica come ho sempre detto faccio l'avvocato e la politica la coltivo da tanti anni per passione quindi riprenderei a tempo pieno a fare la mia professione senza particolari traumi grazie grazie all'onorevole roberto cassinelli che ha anche rotto il ghiaccio di questa edizione di stile artigiano col salotto in piazza ringraziamo anche le prime persone che ci sono fermate a guardarci passeggiando guardandoci un po' come in un acquario in questi giorni ci abitueremo e quindi grazie intanto onorevole cassinelli